Approvata dalla Giunta Comunale di Sassari la proposta di costituzione della consulta comunale dello sport che era stata avanzata dall'ex assessore Vittoria Casu. La pratica adesso approderà la commissione competente per poi essere discussa in consiglio comunale. Un'occasione, secondo l'estensore della proposta, di un confronto allargato per definire le politiche per il sostegno della pratica sportiva. Tra le funzioni del nuovo organismo, così come previsto nel primo articolo del regolamento, c'è proprio quella di svolgere un accordo tra il mondo dello sport e l'amministrazione comunale. La consulta sarebbe presiduta dall'assessore allo sport e i componenti verrebbero designati da federazioni ed enti di promozione che operano sul territorio, tra i rappresentanti istituzionali, delegato provinciale del CONI, delegato provinciale del Comitato Italiano Paralimpico, un rappresentante del Centro Universitario Sportivo e un rappresentante del MIUR. Il regolamento disciplina anche le modalità di convocazione, le spese per il funzionamento della consulta e la durata, oltre alla decadenza e dimissione alla surroga dei componenti e l'eventuale incompatibilità.